pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa diciannovesima domenica incontriamo il meraviglioso testo della tempesta sedata un brano che non ci dice solo qualcosa di profondo sull'identità divina di gesù ma ci dà anche delle chiavi di lettura meravigliose sul come affrontare le prove della nostra vita sia a livello ecclesiale che personale l'evangelista propone l'immagine di questa barca figura della chiesa della nostra anima che viaggia in mezzo a una storia infima e faticosa dove troveremo la forza per lottare e vincere in cristo nella fede in lui vediamo un po' avevamo lasciato gesù con i discepoli e le folle in un clima di grande gioia gesù ha moltiplicato pani e pesci la folla lo acclama vorrebbero addirittura proclamarlo re i discepoli godono di questa situazione e vorrebbero restare lì prima quando la folla era un problema volevano mandarla via adesso che li acclama vorrebbero restare con essa gesù sa bene tutto ciò e sa bene che neanche discepoli hanno capito fino in fondo il segno della moltiplicazione dei pani e allora che cosa fa li obbliga li costringe a imbarcarsi ad andarsene gesù congeda la folla e sale sul monte da solo a pregare i discepoli si ritrovano dunque a dover affrontare un duplice problema attraversare il lago senza la presenza fisica di gesù con loro e due attraversarlo di sera da esperti pescatori conoscevano bene quel lago attraversato da forti correnti che spesso specie di sera e di notte era teatro di forti tempeste partono e si ritrovano ad affrontare proprio ciò che profondamente temevano cioè cioè una tempesta prendiamo già qui un primo spunto tante volte nella nostra vita il signore permette che attraversiamo tempeste prove situazioni che mai avremmo pensato e mai avremmo voluto anzi a volte sembra proprio che permetta che incontriamo quelle situazioni che profondamente più temiamo proprio lì ci sono nascoste delle feconde occasioni di crescita mi viene in mente l'esperienza di san francesco d'assisi che da giovane aborrive lebrosi e il signore lo condusse proprio in mezzo a loro e lui stesso disse mi usò misericordia fu proprio nell'andare incontro ad un lebroso nel dargli un bacio vincendo la propria ritrosia che francesco sperimentò una trasformazione interiore al punto da dire ciò che prima mi sembrava amaro divenne dolce ciò che prima era per me dolce divenne amaro i discepoli si ritrovano dunque a dover affrontare la tempesta e matteo ci dice che la barca era tormentata dalle onde matteo usa qui un termine particolare che richiama la pietra di paragone usata per graffiare l'oro e togliere tutte le impurità proprio per dirci la difficoltà la durezza dell'affrontare questa tempesta e in fondo dell'affrontare le prove più serie che mettono a repentaglio a rischio in crisi la nostra vita al dato storico della tempesta che discepoli affrontano si intreccia un dato esistenziale di ciò che la comunità cristiana viveva anche ai tempi in cui matteo scrisse il vangelo infatti la chiesa soffriva già delle persecuzioni sia da parte dei romani che dei giudei stefano e giacomo erano già morti forse anche pietro e paolo a roma quindi infuriava la tempesta contro la chiesa qui potremmo vedere tutte le tempeste che si abbattono sulla chiesa ma anche sulla vita di ciascuno di noi a livello ecclesiale incomprensioni persecuzioni leggi avverse tribolazioni interne ma anche potremmo vedere nella vita di ciascuno di noi crisi familiari problemi economici problemi di salute improvvisi incomprensioni persecuzioni e scherni da parte di altre persone insomma tutto ciò che si abbatte che ferisce che ci prova ed è particolare notare che gesù non interviene subito ma ci dice l'evangelista solo alla quarta veglia della notte vuol dire tra le tre e le sei del mattino come a dirci che il signore non toglie la fatica del cammino ma non permette che soccombiamo vuole che affrontiamo le prove a volte permette che durino anche un po di più ma è certo il suo intervento non permette che siamo tentati e provati oltre le nostre forze e al momento giusto lui sa come intervenire per riportare la pace quante volte nel corso della vita affrontando prove situazioni difficili all'inizio siamo partiti bene poi con il tempo ecco arrivare lo sconforto la fatica la tentazione della fuga proprio lì è importante perseverare e in fondo proprio lì siamo rivelati a noi stessi sì la prova ci prova ci verifica e ci dà anche occasione di crescere gesù non è indifferente alla fatica dei suoi discepoli e sul monte che prega unito al padre e da lì vede la fatica dei suoi e interviene alla quarta veglia della notte potremmo dire nell'ora più pesante della notte ma anche alle prime luci del mattino interviene cioè nel momento più duro e più difficile è proprio quel momento è il momento della svolta è il momento dell'esperienza di cristo che viene a salvarci nella nostra debolezza sì il signore non ci salva dalla prova o dalla sofferenza ma ci viene incontro nella prova e ci salva nella sofferenza viene incontro ai discepoli che però lo scambiano per un fantasma quante volte accade così anche nella nostra vita il signore in mille modi ci viene incontro ma noi noi lo scambiamo per un fantasma mentre invece scambiamo le nostre idee le nostre paure per la realtà i discepoli sono così presi dalla paura che non riconoscono la presenza viva di gesù accanto a loro che profondo messaggio c'è qui quante volte noi assolutizziamo le nostre paure iniziamo a vedere tutto nero e non riconosciamo i segni della presenza del risorto che si rende presente in mezzo a noi nei sacramenti che ci parla attraverso la sua parola che ci consola manda intuizioni persone a sostenerci a volte raramente anche sogni più particolari insomma ci viene incontro in mille modi ma quante volte lo scambiamo per un fantasma invece il signore che valore incontro viene incontro a noi e dice coraggio sono io non temete il signore non solo dice di aver coraggio ma infonde in noi il coraggio e la sua presenza della comunione con lui che ci salva dalle nostre paure che assolutizzate ci fanno soltanto correre fuoristrada o paralizzare abbiamo dunque un profondo messaggio sull'intervento di dio nella prova e siamo invitati a non scoraggiarci quando le prove perdurano nel tempo abbiamo poi l'esperienza di pietro che ci offre ancora qualche dettaglio aggiuntivo per la nostra vita pietro potremmo dire in un mix tra paura e fiducia chiede a gesù se sei tu il signore comanda che io cammini sulle acque e gesù gli dice vieni pietro pietro obbedisce a quella parola e tenendo lo sguardo su gesù inizia anche lui a camminare sulle acque qualcosa di grandioso miei cari non stiamo parlando di favolette ma di un evento concreto ora noi non sappiamo che cosa sia accaduto interiormente a pietro di certo sappiamo che finché pietro ha tenuto lo sguardo su gesù ha camminato sulle acque ma come lo ha distolto iniziando a fissare le acque a guardarsi attorno a lasciarsi cogliere dalla paura della tempesta ecco che ha iniziato a sprofondare così è anche per noi noi possiamo attraversare le sfide più serie della vita le paure più profonde comprese quella della morte solo se teniamo lo sguardo fisso su cristo solo se ci sappiamo affidare a lui altrimenti se iniziamo a guardare alle prove se assolutizziamo le nostre paure sprofondiamo anneghiamo proprio in quei luoghi dove lui stesso ci ha chiamati a fidarci un po più di lui per sperimentare nella nostra debolezza la sua potenza ecco allora l'invocazione umile di pietro signore salvami e gesù che prontamente lo afferre dice uomo di poca fede perché hai dubitato pietro comprende dunque che non cammina sulle acque per bravura propria o sforzo personale ma solo grazie a gesù e nel momento in cui si sente affondare a causa della sua debolezza nel quale si sente perduto e invoca di cuore gesù ne sperimenta l'intervento potente nella sua vita così è stato per lui così è anche per noi così è per tutta la chiesa quando sentiamo il piede affondare nella fragilità nello sconforto quando ci sembra di affrontare qualcosa più grande di noi è lì il luogo dell'esperienza profonda e potente di dio che viene a salvarci che bello sapere che il signore non ci molla è pronto ad afferrarci e in fondo miei cari questo cammino di crescita nella fiducia nell'abbandono in cristo è un cammino che dura tutta la vita possiamo dire che la nostra fede c'è ma ancora non è abbastanza non è abbastanza forte la si esercita negli atti di obbedienza quotidiani specialmente nelle prove più serie più difficili dove sperimentiamo che senza di lui non possiamo far nulla ed ecco che gesù salito sulla barca con pietra con gli altri discepoli placa la tempesta e ritorna la calma è lui che ci salva è lui che è capace di restituire pace alle nostre anime e di darci la forza e la grazia di attraversare anche le prove più serie e dolorose della vita noi possiamo camminare sulle acque non perché siamo forti e bravi noi ma perché dio è con noi lui in noi può fare tutto ciò ciò che conta è attraversare le sfide e il nostro quotidiano uniti a lui con lui camminando con lui tenendo lo sguardo fisso su di lui certi che come sta scritto in isaia 40 31 quanti sperano nel signore riacquistano forza mettono ali come aquile corrono senza affannarsi camminano senza stancarsi che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti